Siamo con il sindaco di Belluno, oggi qui un incontro dei sindaci delle città capoluogo. Sono lieto di poter ospitare qui a Belluno oggi la conferenza dei sindaci dei capoluoghi del Veneto con i quali abbiamo instaurato un rapporto che si sta consolidando su temi di comune interesse riguardanti le città capoluogo e riguardante in generale i comuni. È un lavoro che dura ormai da quasi un anno e di volta in volta ci spostiamo sulle diverse realtà delle cittadine che compongono la nostra regione. È un lavoro estremamente utile perché temi importanti di comune interesse possono avere una soluzione indirizzata verso una univoca prospettiva. Di questo ringrazio anche i colleghi che sono qui presenti perché siamo lieti veramente di poterli ospitare in questo periodo che è particolarmente difficile per le realtà comunali sul tema soprattutto di natura finanziaria, sul tema delle risorse, sul tema delle prospettive future e delle possibilità di dare risposte ai cittadini in termini impegnati e autorevoli come sino ad oggi siamo riusciti a fare.